Parliamo un attimo di questo incontro, di questo tavolo che c'è qui in prefettura con il mondo della pesca. Lei consegnerà una norma che dovrebbe essere inserita nella legge? Sì, infatti. Allora, questo tavolo che è stato convocato oggi dal prefetto viene come ulteriore tassello a questa vicenda annosissima che stiamo seguendo da anni legata alle royalties che non vengono erogate ai pescatori. La stampa informata, ma ormai la cittadinanza tutta, che è a luglio, il 16 di luglio, c'è stato un tavolo di governo a Roma con il sottosegretario Manzato. A questo tavolo hanno preso parte Federco Pesca, che oggi rappresento, la cooperativa all'orizzonte del territorio, quindi le rappresentanze anche dei pescatori, le sigle sindacali, i comandanti della capitaneria di Porto. Un tavolo molto allargato e partecipato. In questo tavolo sono state affrontate le questioni e le tematiche, tutte le criticità riguardanti la questione delle erogazioni e delle royalties ai pescatori. Affrontando la tematica è venuto come risultato del tavolo l'idea, il progetto, l'intenzione di elaborare una norma di legge che fosse interpretativa, che fosse anche interpretativa ad integrazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 625 del 1996. Traducendo, che cosa fa questa norma interpretativa? Va appunto a colmare quello che potrebbe essere inteso come un vuoto legislativo, tecnicamente non lo è, però va a dare strumenti ulteriori per meglio interpretare e applicare poi nel concreto la norma che prevede l'erogazione delle royalties. Perché? Le chiedo scusa, siccome se ne è parlato diverse volte proprio di queste royalties, come lei ha ben ricordato, ma ad oggi queste royalties non sono state ancora assegnate ai pescatori? Assolutamente no. È dall'anno di estrazione 2014 che i pescatori non prendono una lira, non prendono un euro. Tra mille problemi, oggi è una giornata particolarmente ventosa a Crotone, siamo all'8 di ottobre, noi in Calabria siamo ancora praticamente in estate, ma è una giornata particolarmente ventosa, i pescatori non escono e domani sarà per un altro motivo perché sarà la festa patronale, e dopo domani un altro motivo ancora, non perché facciano festa alla festa patronale, ma per disposizione della Capitaneria di Porto e festa patronale non si esce. E così è un continuo e in più vengono anche privati di risorse legittime previste dalla legge che ancora non riescono ad ottenere.